Arriverà il fotovoltaico per le scuole medie di Valle Lomellina. Negli scorsi giorni la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo di fornitura e installazione dell'impianto per un importo di 35.000 euro, soldi arrivati tramite il PNRR che l'amministrazione aveva deciso di investire sulle scuole. Sul tetto delle medie compariranno quindi presto i pannelli per catturare l'energia solare quanto mai utili in tempi di caro bollette. Il plesso scolastico inoltre vedrà la sostituzione della centrale termica, anche questa finanziata con soldi del PNRR, 15.000 euro. Non finisce qui perché contestualmente la Giunta ha anche mandato avanti una richiesta di finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture per avviare una serie di progettazioni, tra cui spicca quello di una riqualificazione della palestra del polo scolastico cittadino, che comprende anche la primaria. Altri fondi sono stati richiesti per progetti riguardanti la manutenzione di edifici comunali e per la viabilità. A proposito di viabilità insieme ai lavori alla scuola media è stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione di due delle strade principali del paese, via Roma e via Contrada della Valle. Sarà rifatto l'asfalto e saranno sistemati chiusini sporgenti. Il costo preventivato è di 70.000 euro, riperiti grazie a un finanziamento regionale.